E quindi, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti Ora volevo vedere ancora una cosa nelle proprietà Ok, se volevo controllare che fosse in full HD lo è Ok, sì Ma perché è nero? Si vede male? Va bene, sì, va bene, va bene Buonasera, buonasera, buonasera Non è vero che è poco HD Vediamo se faccio... metto la mano in primo piano Perché non le mette mai a fuoco? Perché non mette mai a fuoco le cose vicine? Lo fa quando non sono in live Niente Forse devo togliere un po' di... Niente ragazzi, non ci riesco, non ci riesco Va bene No, non sono verde, non sono viola, non sono strano Quello ne sono certo HD dovrebbe essere da qua Io lo sto vedendo molto HD Dalla mia piccola anteprima Però non capisco perché non riesce a mettere a fuoco le cose Una cosa che non ho mai imparato a fare Sembra che lo stia facendo Il colore della pelle è uguale ai malati di fegato Il colore della pelle è uguale ai malati di fegato È il mio colore della pelle quello lì Non posso farci niente Quello è il mio colore vero Ma non posso farci niente Non posso farci niente È il mio, è il mio colore È Libon Non so se si è stoppata Per esempio per sbaglio la faccio ripartire Se si è stoppata Tranquilla Vediamo se si è stoppata Forse sì Te la faccio ripartire Ok Perché stavo aprendo Stavo aprendo la dashboard Sono tornata dopo tantissimo tempo Ho avuto un male molto grave Comunque ragazzi appunto ripeto E i fantasmi nella pelle Sono stata molto assente Allora Non posso rimettermi a fare le cose incredibili della scorsa volta A giocare con i colori eccetera Però Purtroppo questo è il mio colore Così a buio Così a buio potrei metterlo anche così E poi aumentare il guadagno Però fa schifo Quindi lo rimetto come era prima E diminuisco un po' il guadagno E Purtroppo quello è il mio colore Non posso farci niente Se è il mio colore non ci posso far niente È così Così è il massimo che si può avere Ragazzi se ne sono Poi Ah no aspetta Mi ha spostato il bianco Non so perché Ah ecco cos'è che non andava Che mi ha spostato il bianco Qui sono rosso aspetta Ah ero così prima Ecco perché Siamo andati a vederla a ca Siamo andati a vedere roba Ti prego fatti triord Ti prego fatti triord Ti prego fatti triord No Ti prego fatti triord No che se sto con qualche impostazione Oh ok così No ok salva e basta Non lo toccare mai più Ok così dovrebbe essere un po' più normale Doveva essere un po' più normale Così adesso forse è un colorito un po' più normale È che sono pallido comunque di base Quindi quando mi vedo pallido in webcam Dico è normale Perché di base io sono pallido Comunque buonasera Oh adesso dovrei essere effettivamente tornato come ero prima Quindi buona Ho tipo distrutto la webcam Buonasera a tutti Non mi posso fare traiare perché se tocco qualcosa mi faccio zulul Il weird hd è una cosa super inquietante Il weird hd Vedo che vi piace Vedo che lo state usando È super inquietante Comunque allora ragazzi Andiamo con ordine Andiamo con ordine Le prime cose da dire Sono quindi Buonasera a tutti A tutto Perché comunque Sono pansessuale E brother boy Quindi non saluto tutte le persone Ma saluto tutto Anche perché io sessualmente Mi identifico in uno scaldabagno Però a parte questo Buonasera a tutti Anche gli esseri umani E il Giappone è uscito dal mondiale Quindi possiamo dire Whibs out Quindi Buonasera a tutti ragazzi Buonasera a tutti E niente Oggi è la prima live della settimana Oggi è lunedì Quindi non posso far altro che dire Spero che abbiate passato Un buon weekend Spero che vi siate divertiti Buonasera family Buonasera Pasqualo Buonasera anche a te Signor Pasarnado Grazie Perché mai lo stai diventando? Perché ho messo qualche monte Per far contenti Whibs Solo perché ho messo qualche monte Pensando alle altre persone Solo per questo Perché io penso alle altre persone Perché sono una persona buona Allora Quindi The Big Dog Dragonborn Grazie per il follow False Il colore della pelle No La prima era Ilaria Grazie mille Ila per i viz Buonasera anche a te Eccole infatti Le emotweeb Il muro di emotweeb Incredibilmente Lo vomito proprio Il colore della pelle Uguale ai malati di fegato L'ho un po' messo a posto Forse Dovrebbe essere a posto adesso Elibon Dido sono tornato Dopo tantissimo tempo Ho avuto un male molto grande Mi ricorso un intervento E ho stato molto assente Mamma mia Elibon Dio santo che ansia Mi spiace tanto Elibon No Mi spiace tanto Grazie per i viz Ti sei ben tornata Ma più che altro Sono contento che tu Stia bene C'è Stia bene Ti siano passate le cose Ecco Quindi Grazie mille per essere tornata Ma Mi spiace tanto Come stai? Whips chat Whips chat Whips chat Adesso tutti Siamo già tipo una guerra Incredibile In chat Fra Whips E Whips out Sono proprio curioso Di vedere poi Gli schieramenti Che si formeranno Io ovviamente Sono tra i Whips out E non c'è neanche Da chiedersi Mi sono perso Le live di venerdì E giovedì Causa Ricovero in ospedale Ma che ansia Ma tutti in ospedale Ma che ansia Ragazzi Mi fate venire le paranoie Allora State buoni un attimo State un attimo Calmissimi E c'è di chi grida Buonasera amici Buonasera Come state? Io distrutta Un'altra Sono appena tornata Da un campetto Di due giorni Con gli scout E ho alle spalle Solo 4-5 ore di sonno Sembra la mia tipica Settimana So che abbiamo detto Che come United Si deve fare di giovedì Ma non è Che possiamo fare Una mezzoletta Questa sera Perché giovedì Sono trasferte a Milano Prima di mattina Per la terra di Weaboo E come United Ce l'ho sul computer Fisso Quindi Allora Allora Vabbè Al massimo Sei nel prossimo Sono costretto Tra virgolette Costretto A dirti di no Per il semplice fatto Che molti Sanno che Cioè Molti Tutti Sanno che è giovedì Quindi molti Si sono organizzati Per giovedì Appunto Sia che Sia comprare il gioco Sia che sia Prepararsi qualcosa Cosa da dire Eccetera Quindi Solo per Solo per quel motivo lì Solo per quello Non perché Non appunto Per altro Quindi Crotola al massimo Sei in quello dopo Tranquilla Tanto è una cosa Che torna Tanto è una cosa Che torna Quindi non è che Se ne perdi uno Poi sei fottuta Tranquilla Il re non dorme Divido dopo Dark Souls Porta Treyas Fusion No Treyas Fusion Mi piace praticamente Solo a me Il re non dorme No comunque no Non è adatto Per le live Il re ci spia Il re non dorme Furry Il re ci spia Il re non dorme Il re ci spia Il re non dorme Questo spam Incredibile Il re ci spia Non dorme Che bella battaglia In chat In Italia Intanto fare Chi usa l'emote Web E chi mette Il dito v Dito porta Ma non ci sarò Per tre settimane Ma Lod Ma non potevi Dirlo tipo prima Invece di dirlo Tipo tre giorni prima La settimana stessa In cui si deve fare Io l'ho detto La settimana Giovedì scorso Io ho detto Preparatevi per giovedì Che faremo le cose Cioè purtroppo Il giovedì Quando lo faremo Alcuni ci sono Alcuni no E questo è normale E purtroppo Non posso ascoltare Il singolo bisogno Perché Se no Non la faccio mai Cioè la metto La metto mercoledì E c'è chi mi dice Ma io mercoledì Non posso La metto giovedì E mi dice Ma il giovedì Non posso Così via Si può fare anche Mercoledì Sì si può fare anche Mercoledì Certo Però Aspetta Quando è che parti Hai detto Perché giovedì Sero in trasferta A Milano Vabbè Allora semmai Dopo faccio Faccio un sondaggio Ok Forse Ti prego Fatti tre yard Ti prego No anzi No però aspetta Così è un casino Però no Così esce un casino Perché verrebbe che esce Lunedì Dark Souls Martedì Lo schifo della merda Mercoledì Dark Souls Giovedì casino E venerdì Dark Souls Cioè Io Devo Barra voglio Perché è una cosa Anche che voglio io Variare il più possibile Le cose che porto in live E se io Lo sposto Un giorno prima Facciamo che martedì Mercoledì Insieme Facciamo il variety E giovedì e venerdì Facciamo il Dark Souls Questa cosa proprio È orribile Non voglio diventare Quegli streamer Che fanno sempre Solo la stessa cosa Anche per due giorni Di fila Fare la stessa cosa A me dà proprio fastidio Proprio perché Mi metto nei vostri panni E dico Minchia che palle È sempre la stessa cosa Quindi sinceramente È anche È anche per quello Tutto qua Cioè non è che ci sono Motivi segreti Sono questi Non è che mi cambia Poi la vita Sono questi I cose Tanto Dark Souls Finiamo oggi Perché manca solo Un'ora e mezza Bene In effetti ha senso Si mette i nostri panni Monca mega Gino sì Ti conviene lavarli bene Prima però Fatelo per me Vedo se non sono diventato Per un giorno Autismo Ma è che tanto All'autismo Rinunci comunque Non è che quello Cioè comunque parti Quindi l'autismo Non c'è Comunque Dark Souls Tanto oggi finisce Come l'ho letto male Minecraft su Twitch Non l'ho mai fatto Non è vero Lo l'ho fatto su YouTube Dopo Dark Souls KGBYTED L'ho fatto solo su YouTube Mamma mia Che fortuna Che bello Non aver intasato Il canale Twitch Anche con la schifo Della merda Allora Ma quello è trappanarmi Ah no Ma non è vero L'unico accento sbagliato Eh no Ma non ce l'ho fatto caldo Lei c'è peggio di me Trappanami 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 Allora quindi Ti prego porta le mod di Minecraft Ma basta Ti prego fatti tre Ok questo l'ho letto Questo l'ho letto Dito fra venti giorni Andrò a lavorare in America Ti seguo da quando stavo alle medie Porterò le live Dall'altra parte del mondo Andreoz 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 Andrea in generale Non so Grazie di cuore Per questa cosa Che è fantastica Diffondi L'autismo Anche in America Come dice Trump Autism Has become An epidemic Non so qua In che contesto Trump abbia detto Che è diventato un'epidemia L'autismo Però va bene Vai a dare ragione a Trump E fai vedere come l'autismo Si è diffuso Come un'epidemia Anche qua in Italia Anche grazie a noi Vai E bacia Trump Vai Buonasera Buonasera Mi è mancato un sacco La live Questo fine settimana Ma purtroppo Non ci posso essere Comunque prima di noi Ti devo dire una cosa Stai diventato un cazzo di Weaboo Grazie Jessica Per i 10 bits Mi spiace che Non puoi esserci Ma se ci sei Per dimmi cose Così brutte e cattive Allora Chiocciola di Doma Ma se mandassi La bizzata da 100 Ti sentiresti Moralmente costretto Come con te Virus Lulul Non rido Non si ride Make out Is make great again Esatto Not weabout Oddio no Stanno prendendo il controllo I weab Il bruttissimo spam Di not weabout Terribili Che cosa ho creato Che cosa ho fatto Il ddov deve vincere Non posso vincere Quei gatti furri Con il plug anale Con la coda Pelosa nel culo Per chi ha Feticisti strani Mi sono strappato Una pellicina Adesso mi sta uscendo Il pus Grazie forse In ogni caso Ciccio bello Non sono interessato Ma grazie Ciccio bello Buonasera Di due Buonasera family Come stai Comunque schifoso Tu sei tornato No tu sei fortunato Ad abitare al primo piano Perché almeno così Non devi salare Salare le scale E non stai male Fai schifo Ai sassi Ma non a me Due Sei stupendo Sterlina Sei un fanno Che casino sta succedendo In chat Lo spam più totale Più guardo il mondo Più vedo che sorride A scuola L'ora di ginnastica La mia materia Che tanto se mi apri il cervello Non trovi materia grigia Però non ho Però ho una memoria di ferro Non finisco i tera O i giga Ma metterò il naso a terra Io ho letto Quello che mi ha scritto Ciccio bello 377 Io non posso Fra altro che leggere Subire Come Fosse stuprato in barca Tutto ciò Non lo so Mi sono perso Il live di venerdì e giovedì Causa ricordo Ma che ansia a tutti Dido pollo Anche te Mi spiace un sacco Cavolo Ma mi Cazzo Cioè Mi spiace tanto Spero tu ti sia ripreso Non ti preoccupare Di quello che abbiamo fatto Pensa a riprenderti bene A ricarburare bene Comunque Giovedì abbiamo giocato Mi sembra Suicide Guy E a Nine World E abbiamo fatto La cosa La prima serata Comedy Night Mi sembra E venerdì Dark Souls Poi 100 beats Arrivo 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 Stropolla Tra Weebs E Weebs No 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 C'è comunque Una battaglia Abbastanza figa Infatti Se vedete È una battaglia Abbastanza figa Guarda che casino Guarda che casino Che cosa ho fatto Mettendo quelle cazzo Di emoto Weebs Che cosa ho fatto Guarda che casino Che ho creato Ho creato dei mostri Ho creato Ho creato dei mostri È monster È fucking monster Allora mettiamo questo qui Ok Allora Mettiamo le cose in chiaro Io sono una donna Allora Come 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 Allora Mettiamo le cose in chiaro Mettiamo questo qui Mettiamo questo qui E questo qui Ok Così almeno vedete anche ciò Ciò che leggo Perché dato che vedo Che continuano ad arrivare Bizzate Meglio che Ve le faccio vedere Così almeno leggete insieme Allora Quindi questo ho letto Questo ho letto Il re non dorme Il re ci spia Il re non dorme Esattamente false Esattamente Ma proprio Hai detto proprio bene Chat Out of control Ma perché è partita Questa civil war Che poi si placa Tranquillo Dani Poi la civil war Si placa Quando vedranno I weeb Vedranno che vinco Vincono comunque Quelli sani Quelli non weeb Ma non ci sarò Per tre settimane Lodo Purtroppo non posso Per quei semplici motivi Non Cioè Te ne ho dati più di uno Anche non è per cattiverio Che figurati Se Eh no Mi stai sui coglioni Non faccio come di Naya Non è Non è quella la questione Te l'ho Te l'ho Spiegata Comunque Non ci sei per tre settimane Quello Indipendentemente da me Quindi in ogni caso Quello Cioè Te le perdi comunque Quelle altre Questo avvoletto Questa sera Sarà la terza live Che non seguo Colpa di persone enormi Riii Mi sfruttio per essere in live Vi voglio bene Fermi Luca Luca Smalls Chi sono questi Lo spam infernale Chi sono questi Non Non Dunk Chi sono questi enormi Con cui Bazzichi Con cui giri Stai attento Che ti possono Mangiare Palle Stai attento Tranquillo Tu sei nato Per essere Weibo Pepe S Mi avevano Detto che sei partito Venerdì Invece Mi non anticipavo Qualche cosa Ne sapevo E ho capito Lodo E dillo Comunque Dillo Attenzione Potrei Non 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 So E non Mi fa senso Sentire in colpa Io ho dato Dei motivi Che sono motivi Oggettivi E validi E non Dipendono Completamente Da me Io Non farmi Sentire cattivo Normi Riii Manu Minecraft su Twitch Non l'ho mai fatto E' vero Però Quello è vero Quello è vero Porterei Fortnite Dopo Dark Souls Di corsa Ci buttiamo A Torri Pendenti Tilted Towers Lo so in inglese Il nome perché lo vedo Nelle meme Torri Pendenti Che lo siano italiani Vabbè Ci buttiamo A Guys We drop On Tilted Towers Guarda quanti Guarda quanti Pepe Incazzati In chat Trapanami 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 Lo leggo Come l'ha detto Carla Perché allora Vuol dire che la versione è giusta Ma se In che c'ho fame ragazzi Se mandassi la bizzata da 100 Ti sentiresti moralmente costretto Come con The Virus No No perché ti ho dato Dei motivi oggettivi Lisa No Manu Mi dirichi una faccia kawaii Che cazzo sono le facce kawaii Se si stoppa la live Perché è uscita una qualche tetta Ok eh Che cazzo ci devo fare Con sta roba Me li Me li metto addosso Ma guarda cosa Minchia no Normi e wib Tutto il male del mondo Sto diventando Normi e wib Allora Mettiamo intanto questo in basso Che non si vede la roba Dio Che schifo Not like this Allora pidocchio Cosa sarebbe con l'occhio Minacciocchio Ora però è difficile Allora Hai spezzato il cuore Hai spezzato il cuore Alla povera lodola Vado a buttarmi dal balcone Face Batman Non ci riesco Non ci riesco Non ci riesco Non ci riesco Difficilissimo Si muove come serpenti Monka mega Oh sentite Difficilissimo Cosa Che cosa volete Allora Mi dedichi una fascia covi l'ho fatto Banno tutti che non è un Banno tutti Chi non è un Weaboo Esatto Soprattutto chi non è un Wib No aspetta Banno tutti Chi non è un Weaboo No aspetta 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 In che senso Chi non è un Weaboo No allora no Allora no Forse stai usando la politica Sbagliata È il contrario Alla 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 doppia bocca Hyperlul Trasla Pepe S Oggi sono tornato E sono uscito a prendere Beats Did this the way 100 beats Grazie mille 100 beats Non è stata una giornata Facile questa ragazzi Allora Come vedete La droga sta incominciando A chiccare Did this the way Grazie per i 100 beats Grazie per i 100 Grazie did this the way Grazie di cuore Grazie mille Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie Gentilissimo Sono 100 Comunque Puttane E così Malesi Sono 300 Bambini Sud Sud africani Che mi portano Le Le I pezzi di anguri A letto Quando ho fame Quindi insomma È una grande cosa Quindi grazie mille Did this the way Grazie Oh È vero Sì funziona anche L'OMG scuds È vero È vero Che l'altra volta Era andato dopo Cos'è ciccio bello Cos'è quella roba Cos'è quello spammino Lì orribile E 8 Con i PPS Ricky Ho Grazie per i 10 mesi Sapete che in America Hanno messo sotto torchi Doki doki Perché dicono Che è un gioco per bambini Visto che non tiene scene di Scene di suicidio Rovina le loro giovani Magliabili menti Di Di docci Hater One one Point right door Ma non vuol dire niente Hater one one Allora A parte lo spam Orribile finale Che è orribile Infimo Orribile Di Pessimo gusto Ricky Ho Grazie per i 10 mesi Grazie di cuore Grazie per avermi riscelto Per il 10 mese Basta con quell'affarino Lì che si muove Con l'Omega Lul Cos'è con l'affare Che si muove Vedo che vi state inventando Diversi spam Con il piccolo pepe Che è saltella Grazie per i 10 mesi Quindi grazie mille Perché sono tanti Ancora due mesi Stiamo un anno Quindi grazie di cuore E Non ha senso Quello che stai dicendo Non ha senso Non quello che dici tu Quello che accade in Giappone Cioè in America Non ha senso Perché Solo perché Ha la grafica cartunesca Non vuol dire che per Che è per bambini Non vuol dire nulla Non vuol dire nulla Sto cosa è terribile Mi web Mi spam You norm If ban Ma noi vogliamo fare una prova? Vogliamo fare una prova? E Quell'affarino Che si muove Clap Clap Ad Farenz Grazie per il follow Non credo sia il reale Farenz Però in ogni caso Grazie per il follow Tranquillo Tu sei nato per essere Way ban Tu sei nato per essere Bannato forse Non ho potuto vedere la live Il mio re Ma stasera ci sono Giovedì Grazie Jack Non ti preoccupare Jack Non ti preoccupare Beh quindi vuol dire che Venerdì c'eri In ogni caso Comunque grazie mille Jack Ma non ti preoccupare Se ne perdi qualcuna Noi siamo sempre qua Poi Hai spazzato il cuore Alla povera Lodo La vado a buttarmi dal balcone Ma non ho spazzato niente Non ho spazzato niente Ma non è Farenz Basta Basta Cioè So che stream anche lui Su Twitch Ma non credo sia quello reale Ora 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 guardo Ora guardo ma non credo Ad Ma perché c'è questo No account è creato il 2 luglio Account è creato il 2 luglio Zero followers Non credo L'ha creato adesso Segue solo me però Edz Grazie Farenz Per seguire solo me Grazie Farenz Dio Grazie Farenz Ostia Quindi Per chi non conosce Farenz Vabbè non può capire Quello che ho appena detto Comunque Tranquillo Tranquillo Questo letto Questo letto Oni chan Dei suki Oni chan Dei suki One chan Skoru Io ti ho un po' secondato Però quando è troppo è troppo Comunque Subito Di corsa Sfondala 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 con le palle Skoru Di corsa No Non è il vero Farenz K Poi Manu Kawaii Minchia Un aggettivo che nella lingua giapponese Può essere tradotto in italiano come carino Amabile Adorabile A partire dall'inizio degli anni 80 Minchia ma già dai tempi Il termine indica anche una serie di personaggi fittizi Di manga, anime, videogiochi o altro E gli oggetti loro collegati all'interno del contesto della cultura giapponese No aspetta non vuol dire niente aspetta Gli oggetti a loro collegati Ah beh Gli oggetti solo a loro collegati Però in generale gli oggetti della cultura giapponese No mai Quindi gli oggetti a loro Correlati ha senso ok Però è terribile Ditino Porta Ditino Porta E quanti porno E quanti Apro solo il primo Buona sess Come alcuni di voi avranno notato Non sto più guardando Da quando i miei amici hanno fatto la patente Disso il video Mi ha visto Stai mettendo che eri un furri Ivan Attenzione Attenzione alla dipartita di Ivan A favore della vagina C'è un no safe for work Senza spoiler Grazie Tommy Adesso controllo subito C'è un nsfw Senza spoiler Attento Tempo un attimo Tutte le live Sei un grande Continua Così minore di tre Allora Attilanto Arrivo subito Finisco il discorso che stavo facendo Arrivo Quindi Ivan Grazie per averci avvisato Quindi Si è liberato Grazie Lady Monica Arrivo Si è liberato Tu sei nuova È la prima volta Che vedo Che vedo il tuo nome Infatti si ok È il primo mese Ok Arrivo Comunque arrivo Si è liberato quindi un posto Come moderatore Di Reddit Grazie Ivan Comunque per il servizio che hai reso alla patria Dell'autismo Grazie Ivan Grazie Sto piangendo tanto Come puoi vedere Ed è perché comunque Mi mancherà Essere preso in giro Mi mancherà essere Cyberbullizzato No Essere trattato come una pezza Dall'amore interna Però grazie Ivan Per tutto quello che hai fatto per noi Ivan Un ultimo Caloroso Fils weird man Quindi Quindi c'è un nuovo posto ragazzi C'è un nuovo posto Il pepe con la Pioggia Ancora qui l'account fake Ma basta ma levamelo Dov'è Il pepe con la pioggia Quanto è bello Fils rain man Quindi Piange Fils rain man Ci sono io come mod su Reddit Allora no La scorsa volta Aspetta 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 C'era qualcuno Era successa una cosa E avevo messo Come moderatore nuovo Su Twitch Te False E avevo messo come mod Moderatori Casting couch A me va bene Fils Divento il nuovo Winston Chissà se dopo Mesi sto a giro Ti ricordi come mi chiamo? 50 euro No Stai buono Aspetta Avevo messo come Moderatori di Reddit Appunto Rugdar e Ivan E c'è stato qualcuno Che aveva detto Perché Io non c'era Quando hai fatto il sondaggio Potrei farlo anche io Chi era? No non era Fabio Ma cosa? Chi era? C'era qualcuno C'era qualcuno Comunque Forse non ti posso Mettere come mod di Reddit Perché sei già mod di Twitch Cioè Sarebbe Tu diventi Onnipotente Non posso dare così tanto potere Fabio Mot Chi cazzo è ragazzi? Abbiamo bisogno di questo nome Abbiamo bisogno di qualchiera C'era qualcuno Che aveva detto Era Jacopetta Metti Fabio Fabio Mod Ornoballs No Mi chiude il sabreddit Senza farlo apposta Fabio si Si scherza ovviamente Io Non eri tu piccione No Vabbè Se mi viene in mente Ve lo Ve lo Ve lo Dio Guillermo Chacalalla No Era Umberto Chacalalla Mi sa che era Umberto Chacalalla Comunque Grazie mille Ivan Comunque Per averci avvisato Farò quindi ripartire Un nuovo Quindi Un nuovo Sondaggio Un nuovo contest Un qualcosa Per il nuovo Moderatore Di Reddit C'era un tipo Che aveva Proprio suggerito Il fatto Di mettere i mod Su Reddit E tu l'avevi ignorato Come C'era un tipo Che aveva Prosto Di mettere i mod Su Reddit E tu l'avevi ignorato No Era accaduto Tipo Mesi fa Poi ho detto Ah oddio è vero È una grande idea E poi li ho messi Credo fosse Occhiocciola Sara Savol 94 O Ilaria Credo sia No Credo fosse Sara Sì Credo fosse Sara No Ilaria Era tipo La terza più votata Ma non era stata Lei a dirlo C'era proprio qualcuno Che aveva detto Perché Potevi mettere me E io ero tipo Mmm È vero Sara 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 Savol Sara Savol Sara no Non vuole Allora no Non era neanche lei Sara Savoia Savol Vabbè Qualche nome nuovo Uscirà Per ora Rugdar Se ce la fa Tiene controllo Se no nomino Qualcuno Al volo Così Se vedo Che la situazione Va fuori controllo Quindi Grazie Tommy Per avermi avvisato Grazie Tommy Attilanto Ok questa qui Quindi l'avevo ascoltata Grazie Attilanto Per i quattro mesi Grazie mille Per i quattro mesi Non ti preoccupare Se Non ci sei stato Varie volte Non ti preoccupare Anzi Buon lavoro Che comunque È molto 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 Importante Quindi Buon lavoro E Non ti preoccupare Ma grazie per quello che hai detto Grazie che hai chiesto Che le recuperi Sai che non ce l'hai bisogno Però grazie mille Grazie per i complimenti finali E grazie per i quattro mesi Grazie per avermi riscelto Con Prime Grazie mille Perché dovevo vedere la live Dove ho messo Rugdar E poi c'è la persona Perché non ho assolutamente idea Di quale sia la live Dove avevo messo Rugdar Contando che faccio Cinque live a settimana È possibile che sia tipo Cento live fa Metti me Che parte la mia La mia dittatura Ma hai detto che non vuoi Mi hanno appena detto No Sara non vuole No Non era il area Ma è Il durello Ma da qui lo avete visto Il durello Da qui Cioè da Questa inquadratura Comunque Poi c'è Lady Monique O Lady Monique Credo Lady Monique Credo Grazie per la sub Grazie mille Grazie mille Per avermi scelto con Prime Benvenuta Nel regno Dove regna Solo ed esclusivamente L'autismo Grazie mille Per la sub Grazie mille di cuore Ciara Ita Mi offro volontario Ciara Ho paura di te Ci sono io come mod Su Reddit Forse avresti troppi poteri Ti salgo dopo me Ti ricordi come Allora Cazzo Questo è difficile però Me l'avevi detto tipo Una volta Ora Non devo guardare in chat Perché poi se qualcuno Qualcuno lo dice Dico Nye 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 Ma l'hai letto Ghe ghe Quindi è Mi viene tipo Leonardo Non so perché Carlo Non credo che Carlo me lo Me lo Sarei ricordato Non credo che E ovviamente Non è X Ovviamente non è X Bravo Ci ho dato Cazzo Ricordavo Visto Mi sono dovuto sforzare Tipo tantissimo Mi sono dovuto sforzare Tipo Ho il cervello morto Però Ci ho fatta Visto Visto That's for Leonardo That's for Dorsey Grazie per Grazie per l'euro Però a parte gli scherzi Grazie mille per l'euro Grazie mille Grazie mille di cuore Grazie False Credo fosse Lo sarò c'è Ok questo qui L'avevo letto Andiamo avanti Dopo vi devo anche Fare vedere una cosa Giusto C'è uno save for work Senza La Cosa oscurata Quindi ora lo apro E lo tolgo Non so perché non sia oscurata però Perché cazzo è che non è oscurata Adesso Cosa mi trolla Reddit Allora Diddentai3 Ok Sono su porn hub Che diavolo vuol dire I'm going to I'm going to No non vuol dire nulla Quello che sto dicendo E' più aggintivi Crotalo Ti prego Ti prego Crotalo Sì 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 Erika Sì sì Va bene Lo faccio Lo faccio subito Forse Comunque Finisco di vedere il porno Vabbè Tanto che Tanto che c'è Carla Che parla Lo faccio Miore è possibile Rimettere l'emoticon Del festing Che mi manca Un sacco pepe Anzi Tanto abbiamo Un sacco di spazi Sì sì Ricordatevi Seve però Che sarà attivo Da dopo Però eh Sarà attivo Da dopo Finisco di vedere il porno Allora Ehm Fils Ok Vediamo intanto Cosa esce Fils Bac Fils Grosse C'è Fils Fils RNG Fils S Ehm 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 Fils Fing Kingman Quanti ce n'è Ok Ok Il migliore è sto qua Il migliore è questo qua Ok Usa nel canale Ok Sarà disponibile Da domani Però Ora Devo ritoglilo Perché ci sono I punti pornazia Uno È un pepe Con il cazzo eretto Felice Ecco Come si gioca Dark Souls 2 Su PC Con il controller Della PPP EPS3 Aiutatemi O mi ammazzo Come Con l'immagine Di Pepe Con il cazzo duro È tutto ciò È bellissimo È bellissimo Grazie Grazie mille Poi c'è Ehm Questo quindi È un entai Con i sub Sotto E l'altro dice Minamo-chan I'm going to come All the way Inside E La tipa Sono io Qui dunque Alla mia faccia Ma potrei diventare incinta Se tu lo fai È lui È lui che cosa risponde È lui che cosa risponde Ho bisogno di saperlo Non si sa cosa risponde È finito E non si è capito Che cosa ha detto Non si è capito Che Cosa ha detto Che fastidio Che fastidio I versi Dance game C'è questo cliffhanger Incredibile Pregnant Whib E quindi niente Vi ho un attimo spiegato Cosa accade in questo video È bello perché Al posto della faccia Della tipa C'è la mia faccia Whib Molto carina Come cosa Anche se devi andare via Dalla porta Però lo accetto Perché comunque Lo hai fatto comunque Per far ridere Anche se appunto Dovrei andare via Dalla porta Ma grazie mille Forse Grazie forse Questi D20i 1, 2, 3 Li ho apprezzati tutti Non vedo l'ora del quarto E grazie mille Questi qui li apprezzo sempre Assolutamente Ricky Assolutamente Ricky Assolutamente Allora Era una live Fra il 3 e 5 maggio Ah no aspetta C'era anche Prima Ricky E di me come mod Che dici Dai che sono severo Ma giusto E presentai E presentai Dai 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 E presentai Ricky Che cosa vuol dire Cosa vuol dire E presentai Che ansia Era una live Fra il 3 e 5 maggio Allora Grazie mille Semmai ci do appunto Una puntocchiata Però Quella frase finale Per farmi stare sentire in colpa Proprio no Proprio è un colpo cattivo Un colpo gobbo È un colpo proprio basso Quello crotolo Nel dubbio Metti me come mod su Reddit Che ho fatto un moderatore Su Minecraft Ti pago Ma come Mi paghi tu Per essere mod Dovrebbe essere il contrario Uno Due E Ha fatto un moderatore Su Minecraft Che diavolo vuol dire Sei la miglior Distrazione da tristezza Preoccupazioni Ansia e paure Ti voglio bene Minore Grazie No per il semplice fatto Che poi la chat Diventa poi invasa Solo da gente Che spamma i suoni E non c'è più un dialogo Con la chat Ti pago Iperlul Presentai Lul Non ho capito Che diavolo volessi dire Grazie Ricky Io per quello che Ma l'avevo letta Ila Dieci mesi Anche tu Grazie Perché sono tanti Due mesi Ancora Se hai un anno Miglior distrazione Da tristezza Preoccupazione Ansia e paura Ti voglio bene Grazie Ila Grazie mille Grazie mille Di cuore Grazie mille Se domani Appunto sei libera Mi vado a tagliare i capelli Poi Ti passo a fare A fare un saluto Grazie per questi dieci mesi Grazie ancora due mesi Se hai un anno Anche te Quindi grazie mille Ti voglio bene anch'io Grazie mille Ricky Se non so scrivere Non è colpa mia Vince Batman Volevo dire Presente Ah Non che presentai Adesso Adesso è capito Che Presentasti Quel senso C'era passato remoto E non vi posso ancora Far vedere le cose Perché C'è un altro video Non safe for work Ok Devo togliere anche la voce Perché Twitch Gli la fassi Anche la voce A ricreazione Bim vai Con altra canna Andavamo a villa E avevo gli occhi Come un panda Mac Combinate a scuola Mi chiedeva mamma Comunque oggi Per l'uscita di Crash Per pc Ho rifinito Al cento per cento Il primo Crash Oh Ovviamente usando una rom Ma cosa Ma ciccio Ma compratelo Che se Se oggi è uscito Ma compratelo Comunque la prima parte Come al solito Era folle Quindi grazie ciccio Non delude mai E' un video Niente di Ice Che Dio santo Che 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 fa vedere Come fare sesso Però non Ne posso farlo E' vestito Però Non posso farlo vedere Perché Twitch rompe Rompe i coglioni Solo per Solo per quello Poi c'è altro porno Così lo guardo subito Così poi non c'è dopo Sì c'è altro porno Vediamo un po' cos'è L'odio del re Come 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 Vediamo cos'è Dio che schifo Pigeot Con una serie Con la vagina Una serie di pokeball Che gli escono dal culo Ho fatto tutto furry Tutto porno Che schifo Sentire gemiti di quell'entai Mi ha fatto pensare A quando ho dovuto Fingere un orgasmo Per recitare Il dialogo Di erri Ti presento Sello Come 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 Il teatro è anche questo Sentire gemiti di quell'entai Mi ha fatto pensare Orale Non so come si dice No orale Orale è la bocca Vero Non che si È orecchio Cos'è l'orecchio Sensitiva No sensitiva Acustica Questa è pedopornografia uditiva Anzi grazie Grazie Non so leggere il tuo nome ogni volta Beoxo forse Come 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 Fils weird man Orale Pedopornografia Orale L'ho peggiorata tipo tantissimo Ancora peggio Ok Crotalo Mi spiace che ti obblighino A fare queste cose Io li denuncerai Fossi in te Magari sei per i biz E stai attento A quello che ti fanno fare Boldy basic Ma ha fatto in Unreal Engine 4 Se mi parto I download in automatico Impazzisco però Un video Un trailer Non sai un cazzo Lul comunque Bisogna saper fare Tante cose Dai pianti Alla morte incontrastata Alla morte incontrastata Allora su A gioca Uuuu Madone Sì Sì Dio Dio ti prego Ti prego Perdonali Perché non sanno Quello che hanno creato Ok Ok Va bene Ok Ok Domani Domani lo giochiamo Download Unreal Engine Learning App is days Now available Download Che cazzo cambia? Questo è 64 bit E' della versione nuova Ok Download Ok Aspettiamo che Ok partito Via Ok Lo fa Pog Sì se è bello lo faccio Se è bello lo faccio Sapete che le cose Se lo hai creato tu Come che significa La morte incontrastata Aspetta Aspetta allora Comunque bisogna sapere Sì ma un conto È subire la morte incontrastata Un conto è saperla fare Una cosa ancora più Folle E particolare Strana Aspettate che Perché se si è aperta La finestra dei download Ci sono cose strane C'è tempo per scaricare I virus con Baldi 2 Ma non per Comedy Night Papians C'è tempo per scaricare I virus con Baldi 2 Ma non per Comedy Night Crotalo Era una cosa Per cui ci avevamo Organizzati Allora Crotalo Ora impazzisco Comedy Night Lo fate voi Non lo faccio io Boldi Lo faccio io invece Guarda Cipollino Visto ho fatto Boldi Visto Ora A parte questo Lo faccio io Quindi posso farlo In ogni istante Mentre Comedy Night Se io vi dico Che lo faccio In una data data Poi non posso cambiarla Perché È una cosa Che dovete fare voi E quindi Hyper Quanto cringe Quindi La morte incontrastata Allora in cui in tal caso Invece ha senso In effetti Sì ha senso Morire La morte incontrastata Della vendetta vera Dei re che mai furono È giusto Dai almeno questa So che la so Fare la morte incontrastata Invece È difficile È già un comincetto Un po' più complesso Mi era fino al tipo Che ha messo A essere a copertare Il suo video Cosa ha detto Niente Non credo risposta A nessuno E tu E tu Sta qua la salvo Grazie mille Gabriele Grazie mille Bene Sta Questa cosa è bella L'ho salvata L'ho salvata Il re arrabbiato Mi perdoni Mi perdoni Il re arrabbiato Mi perdoni Mio sovrano Ma lo sapete Che non mi arrabbio mai Mi arrabbio solo Se insultate Senza scherzare Qualcuno Fuori live Cioè Che non è in live O che è in live Eccetera Poi se mi prendete in giro O se mi rompete la base Sapete che Non mi arrabbio mai Mi arrabbio solo Quando ci sono degli insulti Verso persone a caso Allora in tal caso Ok Ma Anche se mi menate Fate due coglioni così Sempre con le stesse cose No Non so se avete sesso Sentito il rumore infernale Del diavolo Della morte vitale Non so se avete sesso E si sente bene Fanno X Si sente bene Monca mega Punti di domanda Ho capito C'è un rumore incredibile Quanti monca S Punti di domanda Da Marco Cadeval con affetto Quindi Crotalo tranquillo Che ha messo i scherzi Su la sua tre Alla mamma puttana Vedo che sei arrivato lì Forse Bene I caratteri che generano Le emoticon A forma di cuore Possono essere letti In termini matematici Come Uguale a otto Ha dice Fatato di quattro Che schifo è Salve Mio onnipotente Re Edz Questo posto sarà Un messaggio serio importante Volevo semplicemente Chiedere consigli Per una situazione Sul disagio Che sto subendo Ok La È la vicina Pepe S No scusate Che prima della live Ho fatto un piccolo rito Stavo cercando di evocare Qualche demone E a quanto pare Stanno appunto arrivando Da qualche anno A questa parte Soffro di Soffro di insonnia Quella peggiore Inizio in singolo Spiore di luce Un minimo rumore Mi tieneva sveglia Per tutta la sera Adesso la situazione è cambiata In modo che Tollerò la luce Ma se percepisco Solo un singolo E sfuggente suono E ritorno a svegliarmi Ma da tutto Ci sono altre complicanze Ma non le sto a dire Il vero problema È che condivido La stanza con mia sorella È che lei I miei genitori E il cane Russano come porci Cito Cito testualmente Vi giuro che ho provato Diversi metodi Tappi per le orecchie Cosa che non fu I demon Satana Chi era Or E tutti gli altri demoni In questa camera Allora Che cazzo Sto cercando di Parlare con le Con le persone Oh Vi giuro che ho provato Diversi metodi Tappi per le orecchie Cosa che Monca S Noisy Solo over again Monca mega I tappi per le orecchie Cosa che non funziona Dato che sento comunque E poi da due giorni Che prendo un sonnifero Naturale Fa l'effetto contrario Volevo iniziare Ad adoperare quello chimico Ma più mi informo Più capisco Che creativa dipendenza Sì Quello non l'ho mai Non mi sono mai informato Però secondo me Sì La crea Secondo me Perché comunque Se riesci a dormire Solo con quello Poi è ovvio Che hai bisogno Solo di quello E non riesci mai A starne senza Cioè È una cosa che non so Ripeto Io non lo so Dico per logica Io non mi sono informato Però tu l'hai appena confermato Non so che fare Vedo che la fattura Di mia nonna Ermenergilda Sulla tua casa Sta funzionando Carlmille 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 Grazie Crotaro Gentilissima Grazie Salutemi la nonna Ermenergilda Ma la soluzione È semplice Basta un randello Ben piazzato E a Ninna Senza problemi Pepukei Grazie Ricky Per la violenza Con la quale auguri La buonanotte alle persone Escoru La tavola Ouija moncas La tavola Ouija moncas La tavola Ouija moncas Cas 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 la tavola Ouija moncas E alla fine penso Che la mia famiglia Non capisca quello che provo Io non vedo l'ora di finire la scuola Scappare via di casa Per fare una vita autonoma È un pensiero un po' troppo egoistico Lo so Non è vero Comunque se foste nel mio caso Cosa fareste? Accetto tutti i consigli Che sta facendo trovare la soluzione Allora Black Rabbit Non sono d'accordo su due cose Uno Però questo è il mio parere Comunque Uno Mi sento una merda Quando sono svegliamente Tutti di dormono Non vuol dire niente Nel senso Perché dovresti sentirti una merda Non è colpa tua Non è una cosa che fai Apposta Non è una cosa che fai Per dare fastidio agli altri Non è una cosa Diciamo Non è una cosa Che fai per fare danno agli altri Quindi non ti devi sentire L'unico modo per dormire Per dormire il segotto La sera Prima di dormire Due Non è vero che è troppo egoista Quello che pensi Cioè non vedi l'ora di finire la scuola Scappare di casa Per farti una vita autonoma Allora Non sono d'accordo Comunque Non sono d'accordo sul fatto Che sei egoistico Perché comunque È ovvio che una persona Dopo un po' Se ne voglia andare via di casa È normale Anzi È preoccupante Il contrario Se tu non avresti Se tu non avessi Mai voglia Crescendo con gli anni Di andare via di casa Allora c'è qualcosa Che non va Cioè vuol dire Che hai un complesso Di edipo O di elettra Tipo Quindi quello è Quello è normale Però In questo caso Andare via di casa Per questo motivo Secondo me È un po' Eccessivo Nel senso Non hai una situazione In casa terribile Per cui vuoi scappare via È un È una cosa che In questo caso particolare Hai tu E dato che è una cosa Che da quello che dici Sembra una cosa È tipo clinica Sembra una cosa vera È proprio la medica Non è una insonnia Che dici Non riesco mai a dormire Tipo la mia Che io fino alle 6 Sono sveglio Però poi quando dormo Dormo Cioè nel senso Magari anche poco Però niente Mi sveglia Anche se mi tocchi Non mi riesci a svegliare Questa è una forma Molto meno grave Una forma di Non lo so Dormo 3-4 ore Ma ci riesco A me va bene così È di una forma Molto più normale Della tua La tua sembra Una cosa più clinica No? Più Anche se mi tocchi K-Pride Quando dormo Dormo La tua sembra Una cosa più seria In questo caso Io ti chiederei In questo caso Di Cioè una cosa Comunque Sembra che ti sta facendo Impazzire Quindi chiedi a un esperto Perché in questo caso Non sembra una cosa Che dici Eh Faccio questo No Questa sembra una cosa Di salute proprio Quindi chiedi a un qualcuno Di esperto Un medico Un qualcosa Perché Potrebbe farti del male A lungo andare Questa cosa qua Anche solo che a livello di stress Perché sembri stressatissima Per questa cosa qui Quindi per questo Ti dico Secondo me È meglio chiedere a qualcuno Tutto qui Quindi BlackRabbit Grazie per aver chiesto Il parere Comunque Ho visto che qualcuno Anche in chat Ti ha dato anche il proprio Quindi grazie mille Grazie mille BlackRabbit E comunque Guardate in quanti siete attivi Su Reddit Aspettate Guardate Guarda che bello Guarda quanti siete Object Object Cazzo Cosa succede Metodo infallibile Per far smettere Le persone Di russare Su suggerimento Di chiocciola Leopi 55 Guardate Coniglio nero Zul Con un cuscino Con un cuscino Io ho avuto spesso Problemi a dormire Devi prima capire Se è un'insonnia Clinica O da stress Anche io ti co Anche io ti co Anche io ti consiglio Uno specialista Esatto appunto In questo caso Da come ne parli Sembri stressatissima Però sembra che sia Proprio clinica Come cosa Nel senso Sembra una cosa grave Sembra una cosa grossa Per cui ti dico È meglio se chiedi A un esperto Proprio un medico Ho convinto un amico A diventare tuo Tuo seguace Sono bravo Miore Forehead Mi faremo ne qui E quindi Ma grazie mille Lolix No scusami Lo sbaglio sempre Lolix Con la I Minchia lo sbaglio sempre Lolix Grazie di cuore Grazie mille per Espandere il credo L'autismo Grazie di cuore Oh hai fatto benissimo Grazie Tanto controllo Perché vedo Degli X Ma ovviamente Ovviamente sono sempre falsi Vi devo poi far vedere una cosa Ragazzi qualcuno che sa usare RPG Maker Mi può contattare Io ho creato tre giochi Con RPG Maker Non li ho mai pubblicati Su Steam Perché sono cazzate Però ho fatto tre giochi Tutti da un'ora circa Però Contando che Non sono sviluppatore Eccetera Tre giochi da un'ora Vanno bene Proprio pregni di dettagli Che qualunque cosa Esplori Ti dà un dialogo Non ve li farò mai vedere Perché erano cose Erano tutti e tre Li avevo creati Per una mia ex Che voi conoscete Ma non vi dico chi è E mi ce l'ho fatto il culo Per creare Tre fottuti giochi Tre Ok Tre videogames Quindi Non me li posso far vedere Però perché sono troppo personali Nel senso C'è la sua faccia Al posto della faccia Del personaggio I dialoghi Ovviamente contengono Il suo nome Eccetera Dato che Non posso Non posso Quindi niente Anche se ti svorro Negli occhi Continuo a dormire Sì Ci hanno già provato Tranquillo Comunque Vincenzo è mio amico Di fiducia Che mi offre il fino Ogni mese Ti saluto da parte sua Che ti segue ogni Ogni sera Mi offre il fino Credo Forse era il vino Sì perché la V è vicina Sì ok E tu infatti Troldeva E ricorda ragazzo Che l'altra volta Parlavi Di questo tuo amico Mi sembra Come 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 Creiamo una software house Tra tutti quelli Che hanno VXA Cioè si crea Figlio di Trofea 3 Creiamo software house Tra tutti quelli Che hanno VXA Se si crea Figlio di Trofea 3 Io figlio di Trofea 3 Mi è rimasto qua nel cuore La mancanza Di figlio di Trofea 3 Però so Che Andrea Era a lavoro Su molta altra roba Quindi In ogni caso Non può Però Ricca Grazie mille Per aver pensato A figlio di Figlio di Trofea Comunque Mettili su Reddit Che cosa No non posso Forse non posso Non posso C'è la sua faccia ovunque C'è il suo nome ovunque Dato che questa persona Mi odia a morte Non posso assolutamente Nominarla Metto in fallire Verosamente Per se Ok Questo l'avevo letto E questo Ok A posto Sono in pari Ok Andre Andre Chi è che ha fatto Figlio di Trofea Scusami Ah già Andre Andre È bellissimo Questa cosa Per favore Voi creatori di giochi Su RPG Maker Contattatemi qui O su Instagram Necessito Vediamo cosa Ho un progetto Un po' ambizioso Anche se il pischello Non se lo mette Visto che mi ha spezzato Il cuore oggi Ma allora La smetto E c'è che gente Per il RPG Maker Il resto Ok Questo sarà meglio Che la smetti O ti arriva al ban Comunque Però scusami Vabbè Io ti scrivo Poi vediamo cosa accade Messaggio per Giordi Allora Dito ti seguo Da quando vivi Un riccio Un riccio Con pelo Folto Morto in testa Grazie Quattro anni fa Quando vidi un tuo video Per la prima volta Fu subito amore A prima vista Non fraintendere K Pride Da quel giorno Cominciai a vedere Quasi tutti i tuoi video Non stop E appunto In questi anni Tu sei diventato per me Come un fratello Tu sei colui Che mi faceva essere felice Anche nei giorni più bui E tristi Grazie E per questo ti voglio dire Grazie Per tutti i sorrisi Che porti Non solo a me Ma a tutti quelli Che ti seguono Ogni volta che sei in live Il caffè della peppina Non si beve alla mattina Ma adesso proprio Né col te Ma perché 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 la peppina Fa il caffè Fa il caffè Con la cioccolata Poi ci mette La marmellata Mezzo Fino di ci palle 4 5 5 5 7 Anni di farfalle Piccola checca Nulla Che feels Che feels Che feels Basta ragazzi Basta Fottuto 2015 2016 Il caffè della peppina Si vede la mattina Ne colate ne colte Ma perché 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 La peppina Fa il caffè Fa il caffè Con la cioccolata C'è una marmellata Mezzo chilo di cipolle Quattro 5 caramelle 7 anni di farfalle Poi gli dice E che palle Ciccio E che palle Sempre a intrudurti A intruderti Nelle donazioni Nelle Che cazzo mi succede Nelle Nelle Non sono bizzate Nei poste seri Eh Ciccio bello 777 Vergogna Che ti intrudi Vergogna Però a parte i scherzi No a parte i scherzi Grazie mille per i 10 Time Lord Adesso che finisci la notituitare Cominci a lavorare Un gioco simile A frambau Su di te Time Lord Gamer Adesso si Adesso si Che potete dire Che c'ho il durello Adesso si Un gioco simile A frambau Su di me Segoni Segoni a 6 mani Chiamo i vicini No i vicini No perché Chiamo altre persone Basta che non si I vicini A fare A agire Agire Con le mani Tutte unte Con lo sputo Del culo Grazie Time Lord A parte i scherzi Grazie mille Grazie di cuore Sono curioso Ma ricordati Che non ti devi preoccupare Che può anche uscire Una merda Che io lo apprezzerei Tantissimo Perché comunque Hai usato Del tuo tempo Per me Quindi non ti preoccupare E puoi anche Non farlo Tranquillo Davvero Lo dico sempre Superframi Autopubblicità Inutile Io con RPG Maker Ho creato il gioco Per Ditto Che questo repiscale Deve fare Ma non sono Per bravo Forse Per niente bravo E boh ciao Il gioco Che è vero Sì Ma non lo ricordo Come l'avevi linkato L'ho scaricato Ma si parla di più Di un anno fa Se me lo rilinchi Lo faccio Scusate Ora la smetto Se no divento Più povero Di un barbone Con il verme Tranquillo Ciccio Tranquillo Rischio 91 Bella diddone Finalmente ho formato I diddi Per fare lo shout out Volevo dirti Che sono un tuo vecchio Iscritto dai tempi Di Half Life 2 Vario Quindi L'inizio del canale Quindi Stiamo parlando Di 6 anni Di 7 anni fa Sì 7 anni fa Ho un assiduo L'orcatore Delle repliche Del live su youtube Sono felice Di questa tua nuova avventura Grazie Rischio Grazie Donazione davvero bella Davvero Posso mettere il terzo posto Su reddito per il gioco Solo in questo caso Sì Manu Solo in questo caso Sì Solo in questo caso Però Rischio Grazie davvero Perché è una donazione Carica di affetto Di Di belle cose Di comunque Di Di anche Felicità Gioia E speranza Per il futuro Come dice questa frase Sono felice Di questa tua nuova avventura Grazie mille Rischio L'ho apprezzato davvero tanto Scusate che non c'entra neanche Grazie di cuore Grazie Io devo ancora rispondere Di aver passato l'esame Di statistica E Hai perso Non ho mai pianto così Tanto di gioia E poi a proposito del verme solitario Vi devo raccontare uno story time Il 18 più bello della mia vita Ma voglio condividere con voi La mia gioia Ho perso Di aver passato l'esame Di statistica Oh Te l'avevo detto Che l'avevi passato Non ho mai pianto così tanto di gioia Per un misero 18 Ma che schifo Il 18 più bello Della Della mia vita Ma Rifiutalo E Ridallo Perché comunque Cioè 18 È abbastanza vergognoso Insomma Io ho preso 21 Scrivendo 8 Senza aprire libro Insomma 18 Studiando C'è qualcosa che non va Ilaria Baracchi Quindi Rifiutalo Per favore Se Mi vuoi bene Tipo adesso Mi hai in panico No io non scherzo Sono 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 contento per te Sono Sono contento per te Tranquillo Eccolo Eccolo Ma tu sei Ma tu sei Vergognoso Io prendo 21 Perché comunque Ho una media Del 29 Che vorrei mantenere E non è andata Puttana Col cazzo 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 Ma nel senso Che prendi in mano Il membro di Stefano E gli fai toccare Il touch screen Del telefono Per far cliccare Rifiuto In quel senso Gabriele Quindi Grazie mille Per appunto Quello che hai scritto Per aver detto Che mi segui da tanto E che qui Quattro anni E che mi vedi Come un fratello Che ti rendevo felice Anche nei periodi bui Grazie di cuore Grazie mille Apprezzo Davvero tantissimo Ma Non sono mai riuscito A ripagarti Non è vero Perché già questo Solo messaggio A me Ha ripagato di tutto Davvero Non è mai stato richiesto Donazioni Bizzate Abbonamenti Mai Io l'unica cosa Che vi chiedo È di esserci È di esserci Tu Punto Sia In live Ma proprio in generale Come affetto Come persone Come calore umano Ecco Solo quello chiedo io Non chiedo altro Quindi Ti sei già fatto Ripagare Tranquillo Come nuova serie Bella potete fare Tra l'altro Purtroppo Non ti ripeto Non piace Piace al 10% Piccola checca Hai fatto bene Quel video Era abbastanza storico Anche se Era nascosto Per quello Ha così poco Mi spiace Ma è troppo lungo E grosso Per poter essere usato Così Pasarebbe sprecato Dai lul E ti ho già E ti ho già risposto Perché non vuoi che ti aiuti Sono là in tutto il giorno E posso controllare Redditi ogni ora C'era Perché A parte che Voglio fare una votazione Non voglio Scegliere io Voglio fare una votazione E poi perché Avevi detto cose strane Quando Avevamo fatto tipo Comedy night Sembravi un po' Troppo scatenato Io ho bisogno Di una persona Più placata Comunque ho detto Voglio far votare Prima Prima voglio far Votare Leggi Fabio OMG Scuds Ragazzi Non è veramente Genovese Ma cosa Di cosa Di cosa stai parlando Mi propongo Come moderatore Di redditi Fabio E Si mette ai voti Insomma Si mette ai voti Fabio Fabio Poggers Lottate con me Per me Amici Pepehens Pog Fabio Pog O Pag Chomp Cos'è sta roba Cos'è questo Stropollo Adesso Perché Se ti fa Voli a portare Comunque Prima di gioia Contro 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 Re Dio santo Che cosa ti ho detto Lo sto facendo Per No Quattro voti Contro Tre voti Non vale niente Almeno devono esserci Cento voti Chiudete twitch Che schifo Lo salvo Perché mi piace fare gli incubi Ma è terrificante È terrificante Monca omega È terrificante Volevo venire in live un po' più tardi Perché guardavo delle live di Fortnite Giusto così Ma i miei mi sono annoiato E anche stasera si vede roba di qualità Ficché non avrei spiegazione per un nuovo meme Poi chiamarmi Leo Dato che smascelli per leggere il mio nome Sì è un casino Leoxo 2 O Leox02 Quindi Leo Grazie di cuore Grazie Grazie di cuore per la cosa che hai detto Grazie Dittatore Ma cosa vuoi? Per fine live e tryhard Cosa sta N-word? La conosco comunque La conosco la conosco Live di Fortnite Fizz Weird Man Ma no che non No 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 è no Comunque questo Gli mettete una collanina Con un dente di squalo Qualche anello strano Ed è il classico ragazzo Del Del liceo Un po' Figlio dei fiori Che ti ruba la Ragazza Domande per il re Aiuto Cos'è un test? Un qualcosa Hyperbra Io non ho fatto niente Io non ho fatto niente Non è colpa mia 40 domande per fare il punto sulla tua vita Guarda Ho capito Ma non posso cliccarle È terribile Ok però sono curioso Vediamo un secondo Cosa sei in grado di fare oggi Che non sapevi fare un anno fa Superare le esame di economia Degli intermediari finanziari Con 21 Edze Che l'anno scorso Non ero riuscito a farlo Niente Diddoci Ultimamente Qual è stata la cosa A cui hai pensato di più 3 Proprio ora In questo momento Cos'è che desideri Ma 4 In ordine di importanza Non voglio di aprire C'è altri argomenti In ordine di importanza Quale ruolo riconosceresti I seguenti aspetti Della tua felicità Ok In ordine di importanza Felicità Soldi Amore Salute Soldi 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 E soldi E figa E soldi Ok no Allora vediamo In ordine di importanza Allora Ehm Io faccio Amore Salute Felicità E soldi Sinceramente Adesso sto Vivendo così E dato che Felicità La metto al terzo posto È anche per quello Che sto così Di merda Di solito Quale parola Descriverebbe meglio Il modo in cui Hai trascorso L'ultimo mese Di dato Lascia perdere Cosa ti motiva Maggiormente In questo momento Della tua vita Ok Cosa mi motiva La fun music C'è solo ice Tra i miei consigliati Aiuto Ok Cosa ti motiva Maggiormente In questo momento No vabbè Ma che cazzo La 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 tengo buona Nel caso Oh no No santo Dio No Cosa mi motiva Di più Non c'è niente Che mi motivi Una sola frase Chi sei tu Allora Ciao Com'era la frase Di Lovepedia Mi chiamo Giordi Sono un ragazzo Tranquillo E Troll Troll Devent Stai zitto Sono un ragazzo Calmo Preferisco Com'è la frase Di Lovepedia Preferisco La passeggiata In spiaggia Alla discoteca Per cosa vuoi essere Apprezzato Per il glande Se ti trasferissi Dalla tavola del mondo Cosa ti mancherebbe Di più Di ciò Che hai oggi Vabbè Le conoscenze Tra un anno In quali termini Pensi che sta Differente alla tua vita Spero in tantissimi Quali sono le persone Che ti fanno sentire A tuo agio I migliori amici Quali sono le caratteristiche Che cerchi in un amico Cazzo grosso La paura di sbagliare Cosa ti hai pedito Di compiere Tutto Cos'è che mi hai sempre Desiderato Sì Sì Da bambino Il cazzo Cosa si Cosa si frappone Fra te E ciò che vuoi Il cazzo Perché Voi abbracciate L'uomo Che tanto volete Ma ci avete sempre duro E quindi si frappone In quel modo No ragazzi Non Cosa fai Quando non ti senti Non rispondo a queste domande Perché deprimo la live Non ci vuoi Si parte con Eddie Murphy Anche questa settimana Sì Eddie Murphy Edward Reagan Eddie Murphy New York Treppi Le stesse Un attore Comico Doppiatore Autore Carabarettista Cantante Tutto sa fare Tutto Tutto Eddie Murphy Nasce nel 1962 Figlio di Charles Edward Murphy Sua moglie Lillian Suo padre abbandonò la famiglia Quando Eddie aveva solo 3 anni Morì 5 anni dopo Incominciò la sua carriera Di attore Ma perché lo sto leggendo Perché mi interessa così tanto Perché Comunque L'uomo più ambivo Della storia È Eddie Murphy Cioè Basta di dire il suo nome E si ride da matti Proprio Quindi È così Per quello L'autismo Oggi ho fatto L'autismo Stavo per dire Otto Monca L'economia È l'economia Che ispira gli otto Se no Non si spiega Esatto Lisa Vedi Non sono solo Triard7 ovviamente Non sono solo io Non sono solo io Ecco Sì c'è C'è Fabio Egan Pog Eccolo qui Ciao Dido Come stai? Oggi appena sono andato Al sushi Oh hai fatto bene Non so quando sei stato a Roma Se lo conosci Si chiama Jinja No no Non ci sono mai stato L'unico sushi In cui sono andato Fuori Genova E a Torino Il post di Mi pare No è vero È vero Anche a Roma È vero Me l'ho completamente Dimenticato Perché ho cancellato Dalla testa Ricordi Con certa gente Quindi me l'ho Sono completamente Scordato Però sì è vero Sono andato anche a Roma Ma non a Jinja Il post di prima Non è mio Ma cosa? Comunque per sbandarmi Dalla chat Su 10 mi chiamo Fabio Fabio Io mi fido Fabio Fabio Andrei Sbaglio I 9 variano ogni volta Ok Non sei più bannato Ma stai buono Quanto cazzo è bella Fabio 3 post O forse non era davvero lui Scusa Quanto cazzo è bella Leggi E leggi No ha ragione Ha ragione ragazzi È vero È vero L'ha fatto Monca S Free Fabio Andre Free Fabio Dancegame L'ho fatto L'ho fatto È libero Fabio è libero Quanto cazzo è bella Ehi dimmi Eh lo so Non è delle migliori Però tipo Tra le ultime che ha fatto Torno la notte Credo sia la migliore Buonasera Pasarnado Sera a tutti Quella in cui mi rispetto di più Sono passata per un veloce E poi scappo Corro verso la mia meta Verso la mia ispirazione E a sbrillucci Chi ho scherzo Cosa succede? Ma comunque Anche stasera Verso la mia ispirazione Sbrillucci Chi ho È il Tuna Rocket Mi raccomando Divertitevi KKKKKK E rischio lo farei Se esistesse una versione Non buggata In cui si sentono le voci Sbaglio I nome variano Sì erano Erano due account diversi C'è un cosplayer Di Fabio Vi saluta anche Il Baraldò Grazie Saluteci Buonasera Pappasarnado Sera a tutti Come stai? Come stai? Quindi Scappa